Preparativi, confronta Santa Gaterina dello Ionio 23 marzo 2008. Vediamo che parte la processione. La Madonna è ancora col velo. E tutti a seguire. Signore e signori stiamo percorrendo il pezzo di strada che si arriva per andare a sederci vicino alla confronta. Vediamo un po' di gente. Chiara, Elenia, Giovanna, Anna Rossella e tutta la gente che ci sarà oggi alla confronta. Riprendiamo soprattutto Elenia perché gli piace uscire nei video. Adesso andiamo a sederci e poi riprenderemo da un'altra inquadratura. Grazie. Mi sembra che aveva un bene messaggio. Guarda. Cius. Grazie Oh C'è Canello Sì, sì Non è caldo Però vivendo Birro, mentre mangio Budonile Buongiorno 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 Sì, questo è un po' di caldo. Tutto se va per il consumo Facile Facile E' un'altra cosa E' un'altra cosa Dove faccio aperto il genere, si è hermone Prima Ciao Enrico!